Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come abilitare il security boot sul nuovo FIFA in FIFA 24 ovviamente per attivare questo security boot per capire se lo tieni abilitato oppure no basta che vai su sidestem information e qui c'è scritto stato avvio protetto che sarebbe il security boot attivato a me quindi ovviamente per attivare questo security boot va attivato sul BIOS della tua scheda madre quindi in questo caso comincia a riavviare il tuo sistema operativo e io adesso vi farò vedere cosa dovete fare ok ho riavviato così il sistema non mi resta che aspettare che esca così l'immagine della scheda madre e cliccare i tasti che mi dice sotto al logo della scheda madre ecco i tasti che devo premere sono usciti sotto è F12 cange a me quindi tu premi i tuoi tasti che ti dice di premere per entrare nel BIOS poi vado sulla ricerca in alto a destra e scrivo UEFI clicco su UEFI e lo imposto al posto di CSM metto UEFI poi una volta fatto scriviamo il security boot eccolo qua ovviamente a voi sarà disabilitato cliccate sopra e abilitate così il security boot e lo metto abilitato ovviamente tutte le schede madre più aggiornate come queste avranno sicuramente una barra della ricerca in alto a destra che potete cercare direttamente senza problemi scrivere il security boot e UEFI e abilitare questo sistema ok una volta fatto tutto una volta abilitato il security boot premi il tasto F10 ripeto il tasto F10 sulla tastiera e salvi la configurazione giù che